Oramai i lavoratori all'estero, al servizio delle finte bionde, sono parte integrante del panorama urbano delle nostre città. Il giovedì e la domenica fanno festa e si radunano in vere e proprie tribù. Io lavoro in zona Vigna Clara, alla grande, io mannaggia le pescette, sto in qualsiasi Trieste, una tristezza. Io in zona Trieste vado a ballare, lo caro Paipa, bella gente, molto caro ciò. Tu ce l'hai l'uomo? No, pretendenti morti, ma per i miei gusti sono troppo buoni. Io c'ho uno che ho una favola. Straniero? Di Viterbo, lavora qui a Roma in una boutique della carne, molto fico. Monica, ah no Monica, c'è due ore che ti sto aspettando fermata nell'auto e tu sei qui a chiacchierà, mortacci tu, andiamo dai. Sta buono, non ti incazzare. Non ti incazzare, ma il martellafone mi ha detto, si vediamo la fermata del 56, oh, non vi si passare il 57 del 56. Andiamo l'anima da rimortarci due un'altra volta, dai, sbrigati. Sei una sagoma. Dai, muoviti. Mi porti a ballare il Paipa. Ma quale Paipa? Qui devo andare a scopare. Sembra a scopare un mazzo come sei materiale. Grazie. Grazie. Grazie.